Buongiorno a tutti, il Signore sia la nostra forza, il nostro aiuto, la nostra consolazione, la nostra speranza. Tu lo sai oggi cosa succederà? Io no, o meglio, ho degli impegni, ho delle cose da fare, ho degli appuntamenti, ho delle celebrazioni, ma in realtà oggi so che cosa succederà? No, perché la mia vita è nelle mani del Signore. E allora, fai un bel sorriso, il sole sorge anche oggi. Fai un bel sorriso anche se oggi magari c'è qualche problema, qualche difficoltà, qualche preoccupazione. Fai un bel sorriso, il sole sorge anche oggi. E sappi questo, è Gesù il tuo sole, il mio sole, il nostro sole. E allora, di cosa preoccuparsi? Di una cosa sola soltanto. Io voglio camminare con il Signore, voglio vivere con il Signore, voglio servire il Signore, voglio fare la Sua volontà. La mia vita è nelle Tue mani. E allora, coraggio, camminiamo insieme. Non dimenticate che siamo una grande famiglia e che ci sosteniamo nella preghiera. Io lo faccio per voi. Voi fatelo per me e per tutti questi fratelli sempre più numerosi. E insieme chiediamo a Gesù la forza e la grazia di perseverare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Io vi do un appuntamento alle 17.20, se ci siete, per pregare insieme il Santo Rosario Dio alla Madonna. Buona giornata a tutti.